Per Emiliano è attivo. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato ieri a Bari i primi protocolli di intesa sul reddito di dignità con Anci Puglia, sindacati confederali e associazioni di categoria. Forum sul terzo settore. Il reddito di dignità è la più importante misura di inclusione sociale promossa dalla regione Puglia contenente azioni di contrasto alla povertà volute dalla giunta pugliese guidata da Emiliano. Il reddito di dignità è attivo e a fine giugno, ha spiegato il presidente della regione, saranno pubblicati i bandi per le manifestazioni di interesse di tutti i soggetti che dovranno collaborare al suo funzionamento. Entro metà luglio i cittadini, nelle condizioni di poter soffrire del sostegno, potranno cominciare a presentare con l'aiuto dei CAF e dei comuni le domande per l'accesso. Infatti i vertici dell'azienda Energas, consapevoli della loro impopolarità nella mancanza della ben minima argomentazione in grado di conquistare il consenso della cittadinanza, incontrano imprenditori e politici nelle segrete stanze, tramando con essi contro l'interesse della nostra terra. In un modo fatto di salotti l'azienda Partenopeia lavora silenziosamente. Allo stesso tempo l'iter burocratico avanza il comitato tecno-regionale dopo iniziali obiezioni sul piano di sicurezza ritenuto insufficiente, approva mettendo il nuovo tassello su questo mosaico costruito senza legittimità, senza il consenso della popolazione. Il comitato in apnea a tal proposito dice che saranno di nuovo in piazza a rivendicare un ruolo che nessuno può assumere sul territorio. Quindi riprenderà la protesta perché ormai la misura è colma. Nei prossimi giorni ci saranno nuove iniziative del collettivo in apnea. Fuggito da una comunità arrestata a Pavia dopo mesi di attitanza un manfredoniano. Paolo Zino, 46 anni, già nuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia di Manfredonia. L'uomo è revaso il 10 gennaio scorso da una comunità terapeutica in provincia di Bari, dove stava scontando gli arresti domiciliari. Zino è stato individuato nel parcheggio di una trattoria in provincia di Pavia, dove si doveva incontrare con due amici, tra cui un pluripregiudicato. Nel corso della perquisizione di alcune abitazioni, la polizia ha sequestrato tre pistole, due caricatori, 13 cartucce e diverse cartucce di vario calibro. Le armi erano state rubate in diverse zone del nord Italia. E parliamo di sport, calcio. Domani Foggia-Pisa ai rossoneri serve l'impresa per andare in Serie B. Ultimo atto della stagione in Lega Pro per stabilire la quarta e ultima squadra promossa in Serie B. L'appuntamento è per domani alle 18, nello stadio Zaccheria di Foggia, per il retour match tra Foggia e Pisa. 4-2 all'andata all'Arena Garibaldi, a termine di una gara ricca di emozioni, che ha messo in razione in posizione privilegiata. L'undici di Gattuso ha fatto valere la forza in avanti, proprio davanti al proprio pubblico. I satanelli invece ora dovranno segnare almeno due reti senza subirne per giocarsi nei tempi supplementari ed evidentemente i calci di rigore. Entrambi meriterebbero la promozione, ma a far festa dovrà soltanto essere una delle due squadre. In questi giorni i biglietti sono andati a ruba e quindi il sindaco di Foggia e Landella ha predisposto nuovamente un maxi schermo in piazza per poter permettere a quanti non hanno acquistato il biglietto di poter seguire la partita con fischio d'inizio, come già detto, agli ore 18. E parliamo sempre di calcio tra le polemiche. Energas si ed Energas no, ci parla anche di calcio giocato. Il giovanissimo portiere del Manfredonia, Simone Sarri, classe 2000, è finito nel mirino di un club professionista. L'esterno sedicenne effettuerà un breve periodo di prova con il Novara nelle prossime settimane per essere valutato. Si è svolta venerdì 10 giugno la festa della chiusura delle attività dell'Accademia Calcio Manfredonia. Alle 18.30 tutti gli accademici unitamente ai prossimi genitori hanno dato vita a una grande festa allo stadio Miramare. Tanta allegria, tanto divertimento ed una rivederci alla prossima stagione per i piccoli campioni, cioè da settembre prossimo. Siamo in compagnia di Lino Troiano, presidente dell'associazione sportiva Accademia Manfredonia, un'associazione che opera da due anni e che proprio nella giornata odierna ha organizzato una bellissima festa di fine stagione, una festa accademica con centinaia di bambini che sono stati portati sul terreno del Miramare, hanno disputato dei tornei di calcio e poi c'è stata la festa finale con l'associazione dei giocolieri che hanno dato viva luce a questi ragazzi, li hanno fatti divertire. Quindi un finale di stagione davvero molto molto bello per un'associazione che parte dal presupposto che è il calcio e soprattutto scuola di vita. Quindi Lino Troiano, una bella soddisfazione vedere tanti bambini, tanti ragazzi e soprattutto le loro famiglie, i genitori, i papà, le mamme qui sul campo Miramare per assistere a quello che fanno i loro ragazzi. È una bella soddisfazione vedere tanti ragazzi, veramente per noi che siamo passionati in questo sport, vedere tanti ragazzi e anche i genitori presenziare una giornata come oggi. Purtroppo è l'ultima giornata di questa stagione, a noi dispiace perché poi ci vedremo, anche se abbiamo qualche torneo ancora in corso, però ci dispiace che per due mesi non vedremo i nostri ragazzi giocare. Quello che noi facciamo è per amore per questo sport. Per amore per questo sport, però le attività dell'Accademia Manfredonia non si concludono perché ci saranno altre attività questa estate, presso il Lido Nettuno, un'estate sulla spiaggia con il calcio sulla spiaggia e poi addirittura un campo praticamente estivo che dura per 20 giorni, quindi c'è ancora tanta carne a cuocere per l'Accademia Manfredonia. Sì, sabato 18 c'è questo Beach Society che organizziamo, abbiamo fatto, grazie anche ai proprietari del Nettuno, questa convenzione dove loro ci mettono a disposizione un po' di spiaggia, dove organizziamo questi tornei di Beach Society che si svolgeranno dalle 15 a 30 fino alla sera alle 21 e ci saranno molte squadre, non saremo solo noi a giocare, ma ci saranno squadre da Barletta, da Foggia, da San Giovanni, Monte, San Severo, dove ci saranno i nostri ospiti e dove cercheremo di far divertire anche questi ragazzi, proprio per avere anche con queste altre società un rapporto di amicizia con loro. Un rapporto di amicizia che sicuramente già è stato in qualche maniera misurato durante il corso dell'anno perché i rapporti sono fissi, cioè ci sono buoni rapporti con queste società sportive. Sì, sì, sono tutte società che noi abbiamo un rapporto di amicizia e di collaborazione. Quando noi organizziamo qualche torneo con i nostri ragazzi vengono loro qui, poi in tante altre volte siamo andati noi a giocare con loro. Dimenticavo il fatto del campo, quello che organizzeremo sempre in collaborazione con Lino Nettuno, dove la mattina i ragazzi faranno didattiche, faranno altri giochi sulla spiaggia e poi due volte alla settimana verranno qui al Miramare a fare calcio, dove ci prenderemo cura anche dei bambini su questo lato. Bene Lino, per chiudere una domanda che te l'aspetti, senz'altro te l'aspetti, sei stato protagonista in questi giorni di una trattativa con Antonio Zdanga per rilevare il Manfredoni a calcio. Sembra che invece Antonio Zdanga abbia accettato la proposta di Energas e tu hai annunciato che chiaramente la tua proposta era una proposta valida, una proposta interessante, una proposta per quello che è il valore attuale della società calcistica, della SD Manfredoni a calcio, però il tuo appello non è stato in qualche maniera accolto. Antonio Zdanga ha fatto le sue scelte, io che ero capo di una cordata di amici avevo l'obbligo di fargli una proposta, dove gli ho fatto una proposta, quella proposta secondo me è la proposta giusta, non possiamo combattere con Energas, noi abbiamo fatto una proposta del titolo di sede D, gli ho spiegato anche sia a lui ma l'ho spiegato anche in una sala consigliare, di arsidio con altri eventuali soci che ci potevano essere, che per me quella è la proposta decente diciamo, purtroppo lui ha avuto altre proposte più migliori, non ha fatto la sua scelta, secondo me è anche un po' sbagliata, voglio dire perché sbagliata nel senso calcistico, perché anche per la città insomma, la città non vede di buon occhio questa cosa qui. Io sono un po' damaricato, l'ho già detto a qualche altro giornalista, sono un po' damaricato perché ormai ci pensavo, ci contavo di fare qualcosa, non dico di nuovo, però qualcosa un po' fatta meglio, come la penso io diciamo. Ecco ci credevi? Ci credevi, sì, ci ho creduto fino a due o tre giorni fa. E c'è qualche spiraglio, qualche possibilità perché comunque possa esserci il tuo ingresso in società? Un po' difficile che entri in questa società perché abbiamo delle idee, ho anche detto a lui personalmente, abbiamo un'idea calcistica un po' diversa, io la vedo diversamente, a parte il fatto che io sono ambizioso, voglio vincere sempre, non voglio partire per salvarci oppure anche se quest'anno se è vero che ci sono quei soldi si può anche fare una squadra competitiva per salire, speriamo. Però ho lavorato due anni con lui, lo voglio anche bene, però abbiamo un'idea diversa di gestione della società e allora è meglio stare ognuno per conto suo, io mi coltivo i miei ragazzi, faccio questo che per me è anche un divertimento, un hobby, è già una cosa che mi può bastare, lui fa quello che ti chiede. Infatti io debbo dirla tutta perché abbiamo avuto modo anche di parlare con Antonio Zdanga, lui per la verità ha riferito che nel rapporto colloquiale e anche amichevole che c'è stato con te in questi giorni comunque ha riscoperto anche una bella forma di amicizia per cui il rispetto e soprattutto quella voglia di portare avanti il Manfredonia, per cui lui non mette da parte l'ipotesi che ti possa coinvolgere. Allora io conosco Antonio Zdanga da quando lui era ragazzino, l'ho visto crescere e questo dico avevo rispetto anche dei suoi genitori perché abbiamo abitato vicino, però come dicevo prima anzi alla fine del colloquio abbiamo avuto due o tre giorni fa, lui mi ha promesso, ha detto poi c'è una novità per te, una proposta per te, quando ce l'hai poi me la proponi vediamo un po' se è una cosa che posso accettare. Noi ci auguriamo che tu possa accettarla perché diciamo per grandi linee sappiamo più o meno di che proposta si tratta, però è qualcosa che può interessare di Notroiano, anche perché non può essere messo da parte di Notroiano nel Manfredonia Calcio perché tu sei un passionale e amico in Manfredonia Calcio. Questa è una mia malattia purtroppo, una mia malattia purtroppo perché non ci sono medicine per questa malattia, è una cosa che io la porto dentro. Per me i miei colori sono questi qua, bianco celeste, lui è un altro colore, però io dico il bianco celeste è amore e passione per questi colori, questo è quello che posso dire, di più anche perché quando poi io sto fuori dal calcio non sto bene neanche mentalmente. Va bene, lì non esiste un piano B invece? No, piano B ci potrebbe anche stare, ci potrebbe anche stare un piano B con un titolo di qualche altra società, però non mi alletta più di tanto, era più questo che mi allettava, questa cosa qui ci condavo. Va bene Lino, ti ringraziamo, ovviamente sempre a disposizione. Grazie a voi anche per la vostra presenza, grazie veramente, ci avete fatto piacere di essere venuti. Grazie ancora. Grazie a tutti.